Ricominciamo dalla parola pace. Ad Assisi si viene non per alzare odiosi muri ma per costruire nuovi ponti. Il custode del Sacro Convento Padre Mauro Gambetti ha aperto così il cortile di Francesco durante il quale si confrontano fino a domenica filosofi, politici, religiosi, giornalisti, manager e artisti. Cominciato con un incontro con il ministro Valeria Fedeli. Pace nei cuori, ha chiesto Padre Gambetti, negli sguardi, nelle mani, pace in famiglia con gli amici e coi professori. Il cortile di Francesco ha detto vi troverete davanti ai popoli, fedi, culture, esperienze diverse. L'obiettivo è camminare insieme e generare nuove prospettive.